Sono arrivati dei prodotti che io non ho mai visto, quindi probabilmente non li avrete visti nemmeno voi e non vedo l'ora di scoprirli insieme, intanto buona domenica, è sempre un piacere rivedervi, se è la cosa reciproca mi raccomando ricordatevi di supportarmi con un like e l'iscrizione al canale, il taglierino è sempre pronto, lo trovate sempre in descrizione perché è il miglior taglierino del mondo ed è quindi un compagno perfetto per questo unboxing. E allora vai col primo pacco, questo io non l'ho mai visto, è un prodotto nuovo, fatemi sapere se voi l'avete già visto ma dubito, si chiama Loco e di OneControl, è un'azienda italiana con sede Brescia che si occupa di rendere smart cancelli e porte del garage come ho fatto io, in questo caso però hanno creato un lucchetto smart, confezione c'è il cavetto usb c per ricaricarlo perché naturalmente lui ha una sua batteria e wow, wow, niente niente male, un bel lucchettone, sembra anche molto solido, naturalmente è tutto in metallo, c'è una luce led che sta lampeggiando e dei simboli che probabilmente andranno ad illuminarsi, naturalmente è resistente alle intemperie e all'acqua tanto è vero che la porta usb c è ben protetta qui sotto. Ora sostanzialmente la cosa interessante è che si può andare a configurarlo con lo smartphone e quindi aprirlo direttamente sia con lo smartphone o con l'Apple Watch ad esempio e avere quindi la possibilità di aprirlo o chiuderlo senza chiave, in fin dei conti è più facile avere dietro con sé sempre lo smartphone che non la chiave del lucchetto. Non vi faccio vedere adesso nulla di più di quello che vi ho detto perché lo voglio provare e se vale la pena ve lo porterò in un video dove vi farò vedere veramente il suo funzionamento, i pro e i contro, come sempre. Nel frattempo però vi lascio il link dove potete vedere prezzo e informazioni del loco di OneControl. Ragazzi mi è arrivata una bicicletta elettrica fighissima e non è la solita cinesata ignobile, questa è veramente la più bella bici, più sfiziosa che abbia mai provato, è una bici fatbike, ho fatto un unboxing nel cortile di casa, si chiama Yasno e ha un look da moto anni 70 o anche più tipicamente dalle biciclette che c'erano tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 che io ho sempre desiderato ma non ho mai potuto avere perché era un po' fuori di età, bellissima, col sellino piatto lungo, questa però è una bici elettrica con motore 250 watt quindi assolutamente all'interno della normativa ed è assolutamente legale perché non è provvista di acceleratore quindi potete utilizzarla tranquillamente sul territorio italiano, anzi vi dirò di più, è assolutamente più completa di qualsiasi altra bici perché oltre ad avere l'illuminazione fighissima, guardate il foro anteriore che bello che è, con luce ma anche led circolare, faro posteriore con tanto di stop ma soprattutto ha le frecce sia anteriori che posteriori e questo nessuna bici al momento le ha almeno io non l'ho mai visto ed è una sicurezza incredibile, tac mettete la freccia e siete visibili sempre e comunque, dal punto di vista della comodità è una bici particolare perché non c'è la possibilità di settare la sella però io sono alto 1,78 e mi sono trovato subito a mio agio, il motore è molto reattivo, c'è il suo cambio Shimano, nulla di particolare ma comunque dignitoso e poi naturalmente ha il suo display bianco e nero tranquillo dove puoi impostare le tue velocità e vedere tutti i dati, non c'è altro, non c'è collegamento bluetooth, non c'è applicazione ma è una bici assolutamente godibile e molto comoda da utilizzare grazie appunto alle ruote maggiorate, molto larghe, belle ci stanno poi con questo parafango molto motocross e comunque la doppia ammortizzazione sia anteriore con questo forcellone sia posteriore con la molla posizionata sotto la sella, la batteria è qui sul canotto, si può chiaramente asportare perché è esterna con tanto di chiave così come c'è anche la chiave per accenderla e spegnerla, bici sfiziosissima, adatta a qualsiasi terreno, bella, bella da esibire, bella da utilizzare, mi è piaciuta tantissimo veramente, mi è piaciuta molto, quindi se vi piace questo genere di biciclette ve la consiglio assolutamente, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Prima di continuare volevo farvi vedere come ho fatto brappare il mio iPhone 13 da Trend Device, si sono andato in uno dei loro negozi fisici, più precisamente quello di Brescia che è il più vicino a casa mia e ho approfittato di questo nuovo servizio che offrono ovviamente negli store fisici, quindi nei loro negozi che hanno sparsi lungo tutto il territorio, la possibilità di andare ad applicare una pellicola e farlo brappare con diverse colori e finiture più che altro per gusto personale o magari per andare a coprire quelli che sono i piccoli graffietti e devo dire, ve lo faccio vedere qua, il risultato è niente niente male, io ho fatto mettere questa pellicola che simula un pochettino la pelle, quindi l'effetto pelle molto carina ma ce ne sono di diversi altri tipi, tra l'altro ho scoperto che in questo periodo fino ad usaremento scorte si può avere una cover per iPhone a un euro, che è una roba incredibile, tra l'altro non è niente male, guardate qui è anche con il MagSafe, ma l'occasione era anche buona per dirvi che come sempre io collaboro con Trend Device perché è una realtà che mi piace, con la quale mi sono trovato molto molto bene e ho il piacere di dirvi che ci sono gli sconti di Natale molto interessanti, fino a 100 euro sui MacBook, fino a 50 euro su iPhone 14, 13 e 12 e fino a 40 euro sugli Apple Watch, sconti che naturalmente potete andare ad accumulare insieme al mio personale sconto che è TD Manuel X che sono ulteriori 10 euro di sconto da poter usufruire per regalare o regalarvi un bel iPhone o un MacBook o un Apple Watch ricondizionati perché non deve per forza essere sempre comunque nuovo il regalo, si può regalare qualcosa di ricondizionato magari anche con il wrap per renderlo davvero unico. Vi lascio il link qui sotto in descrizione per andarvi a vedere tutte le loro offerte e ovviamente anche al mio codice per poterne approfittare. E poi è arrivato questo pacco, è il Roborock S8 che io devo essere onesto sto già utilizzando almeno da un paio di settimane ma volevo parlarvene in questo unboxing perché mi ci sono trovato talmente bene che ho realizzato anche un reel che forse avete visto sul mio profilo Instagram. È un robot aspirapolvere che non mi stupisce per niente perché io ne ho utilizzati tanti di Roborock e sono sempre ottimi dal punto di vista della tecnologia ma soprattutto del rapporto qualità prezzo. L'S8 è un modello anche molto bello da vedere secondo me, total black, è senza torretta quindi ideale proprio per tutte quelle situazioni dove la torretta potrebbe essere quel di più che dà fastidio, in realtà la base è talmente bassa che si può posizionare tranquillamente anche sotto un mobile casalingo e farlo uscire solo quando serve. Potrebbe sembrare il classico banalissimo robot, in realtà lui ha delle caratteristiche assolutamente degne di nota e che io ho apprezzato tantissimo qui nell'utilizzo del mio studio, in particolar modo io ci tengo sempre molto alla capacità di navigazione e lui è estremamente preciso, grazie appunto al rilevamento con luce strutturata 3D e l'immagine a infrarossi oltre che la torretta leader che lo rendono capace di muoversi tra la giungla appunto che è rappresentata da quelli che sono tutti gli ostacoli che abbiamo all'interno delle nostre abitazioni, cavi, ciabatte, giochi, animali domestici, insomma tutto ciò che si può trovare all'interno di un'abitazione lui è in grado di rilevarlo in tempo reale ed evitarlo. Ma una cosa assolutamente difficile da trovare soprattutto in questa fascia di prezzo è la capacità di pulire in maniera così accurato grazie anche la tecnologia due roller che di fatto sono queste due spazzole che vanno praticamente ad attirare meccanicamente tutto quello che è un po' di più rispetto al normale granello di polvere, immagino residui più pesanti oppure i capelli che non vanno ad attorcigliarsi perché vengono proprio catturati da questa doppia spazzola, doppia spazzola che in abbinamento ha la potenza direi piuttosto elevata ben 6000 pa, insomma sostanzialmente non teme assolutamente nulla nemmeno per quello che riguarda la pulizia del pavimento con acqua, si può installare il suo panno che è in grado di alzarsi e abbassarsi quando serve e utilizza la tecnologia della vibrazione sonica, questo vuol direi che il panno strofina il pavimento con una pressione costante e quindi alla fine la pulizia è davvero ottima proprio come se si fosse passato come dire con la mano, l'ho apprezzato tantissimo perché appunto è in grado di muoversi qui all'interno del mio studio, è in grado di pulire il pavimento e questo è un pavimento che si sporca molto anche perché entro spesso con le scarpe quando piove insomma è un ambiente lavorativo e la capacità di pulizia di questo robot mi ha assolutamente soddisfatto sotto ogni punto di vista, poi il fatto che non abbia la torretta e che sia un Roborock vuol dire anche rapporto qualità prezzo elevatissimo, parliamo di un robot che ascilla praticamente quasi sempre sotto i 500 euro quindi un prezzo assolutamente abbordabile che permettono di portarlo a casa ad un prezzo davvero molto molto interessante soprattutto ora che siamo in periodo diciamo pre natalizio potrebbe essere un regalo da fare ma soprattutto da farsi per avere sempre casa studio qualsiasi ambiente pulito in maniera autonoma e senza doversi sbattere con l'aspirapolvere a me è piaciuto tantissimo vi lascio naturalmente il link qui sotto in descrizione così potete come sempre andare a vedere il prezzo eventuali offerte ma anche tutte le caratteristiche tecniche che non vi ho detto in questo video altro pacco arriva da Amazon ok è arrivato il Nubia Z50 una vera bestia perché è dotato di snapdragon 8 generazione 2 12 gigabyte di memoria ram e ben un terabyte di storage cavo rosso per la ricarica e caricatore che in questo caso è cinese infatti mi hanno messo in confezione anche un adattatore questo non è il massimo però insomma se avete un altro adattatore a casa ad alta velocità potete tranquillamente sostituirlo ecco questa è una cosa buona c'è una coverina rigida trasparente già in confezione anche perché sennò dove andate a comprare una cover per il Nubia Z50 diciamo che non è proprio uno smartphone per le masse allora bel mattoncino estremamente quadrato tutto alluminio nella cornice e una back cover che sicuramente si fa notare con questa finitura in similpelle qui parliamo di uno smartphone con caratteristiche top di gamma processore di ultima generazione display amoled 6,78 pollici ricarica rapida 80 watt 12 gigabyte di ram con delle finiture direi accettabili anche se non sono pienamente di mio gusto e soprattutto un comparto fotografico performante che con la 1x arriva a 35 mm ma con lo zoom arriva fino a 6x 170 mm e soprattutto un prezzo incredibilmente interessante perché in questa configurazione da un terabyte si può acquistare su amazon a 699 euro mentre 649 per quella 256 sicuramente un'opzione valida appunto per chi vuole avere dotazione hardware di altissimo livello magari accettare qualche compromesso dal punto di vista del software o comunque della presenza del brand sul territorio che non può essere paragonabile a quella dei brand più blasonati ma avendo comunque un dispositivo capace davvero di performance interessante dietro Nubia ve lo ricordo c'è ZTE che comunque è un colosso in Cina e questo dovrebbe essere già abbastanza rassicurante fatemi sapere cosa ne pensate di questo dispositivo soprattutto dal punto di vista estetico è abbastanza bizzarro fa capire di sé che è un telefonino votato alla fotografia però vi dirò non sembra malaccio il display è bello si fa tenere in mano non è nemmeno troppo pesante tutto sommato quindi potrebbe essere una buona opzione io vi lascio il link di amazon qui sotto è arrivato un pacco da eco flow eccola qui eco flow delta 2 l'ho scelta perché secondo me nella linea di eco flow è quella un rapporto qualità prezzo migliore perché ha comunque caratteristiche diciamo interessanti e una potenza elevata ma è ancora in dimensioni compatte e un prezzo piuttosto umano rispetto alle opzioni ben più capienti che comunque eco flow offre come vedete dalla mia app non è certamente il primo prodotto eco flow che provo e che possiedo la delta 2 si può andare a connettere come tutti gli altri prodotti tramite smartphone sia wifi che bluetooth e avere quindi il pieno controllo di tutto attraverso l'applicazione quindi erogazione tempo di carica residuo ricarica rapida attraverso questa ricarica fino mi sembra a un kilowatt l'ora e quindi si ricarica davvero in pochissimo tempo io la utilizzo qui in studio per cosa semplicemente la metto sui carrelli e quando devo attaccare tutte le mie luci porto il carrello con la batteria collego tutto e quindi non ho fili in giro per lo studio quando finito scollego tutto riporto il carrellino con la batteria in carica e ho sempre tutto ordinato senza avere cavi volanti quindi questo è un utilizzo alternativo rispetto a quello che normalmente si fa di queste batterie che può essere molteplice a officina mobile camping viaggi il bello è che è piena di connessioni ci sono ben quattro ingressi di tipo tedesco qui c'è la porta per ricaricarla col suo cavo si può caricare anche in auto volendo si può ricaricare con i pannelli solari c'è anche l'accendisigari e due porte dc 3 ampere mentre dall'altro lato c'è il suo display con tutte le informazioni che servono carica residua tempo residuo output e input qui ci sono quattro porte usb a due normali due fast charge e due usb c a ben 100 watt quindi ottime per ricaricare praticamente tutto quindi è una power station ottima secondo me ecco flow uno dei migliori brand in questo settore sia per la qualità dei materiali ma anche per tutto quello che ci sta dietro software eccetera vi lascio il link qui sotto in descrizione altro pacco che arriva da amazon ok questo è lo smooth 5s combo di Zhiyun quindi un gimbal o dicasi stabilizzatore per smartphone direi con velleità quasi da stabilizzatore per reflex perché vedo che qui anche una manopola credo per il fuoco o per lo zoom e una torcia magnetica qui sopra ma vediamo confezione ricca con tanto di borsello molto comodo anche se leggermente ingombrante rispetto ad altri competitor tutto realizzato in plastica c'è anche un treppiedino portatile molto bene ok e la torcia qui che vi ho fatto vedere cioè la lampada portatile anche le sue gelatine magnetiche giallo rosso arancione e blu interessante ok è sblocchiato e in questo momento stabilizzato direi che il nome smooth ci sta perché i movimenti sono estremamente smooth molto molto morbidi c'è anche la configurazione in verticale e la sua applicazione col quale connetterlo qui si può andare ad applicare magneticamente la luce supplementare ok la luce può essere regolata con questo joypad che ne aumenta o ne abbassa la luminosità come vedete la luce è doppia e spara è davvero potentissima ve la faccio vedere girando cioè guardate qui posso andare a regolare alzare abbassare la luminosità direi interessante come dispositivo sicuramente è uno stabilizzatore un po' più completo rispetto a quelli che pieghevoli della concorrenza che si trovano facilmente del quale vi ho già parlato qui è più per degli utenti un po' più evoluti che vogliono fare qualcosa di davvero speciale col proprio smartphone è molto interessante meriterebbe sicuramente un approfondimento lo proverò e se va bene lo porterò magari in un video di gadget da avere sempre con sé soprattutto per la creatività quindi fatemi sapere cosa ne pensate vi lascio il link qui sotto lo vendono su amazon e io direi di passare al prossimo pacco quelle che vedete adesso sono immagini di repertorio perché in realtà l'ho aperto qualche settimana fa e se avete l'occhio attento lo avete visto di sfondo in alcuni dei miei video questo proiettore di four movie parliamo di un proiettore laser 4k a raggio ultracorto un prodotto di ottimo livello che permette di avere una proiezione sul muro con una grandezza fino a 150 pollici cioè un vero e proprio cinema parliamo di 4k di risoluzione hdr 10 dolby vision e ben 2800 ansi lumen quindi è un proiettore che può essere utilizzato tranquillamente anche in ambienti semi luminosi ecco in pieno giorno magari no ma questo è un prodotto da utilizzare prettamente per la visione di film e di contenuti ma per giocare tra resto all'interno all'audio bower and wilkins integrato quindi di fatto già lui è una soundbar qui potete sentire un po di audio a me è piaciuto tantissimo e considerate che qui è proiettato su un muro grigio l'ideale sarebbe avere un muro bianco o ancora meglio una tela magari anche di quelle fisse messe a muro per avere il massimo del performance qui purtroppo il muro è quello che è un po storto ma era per provarlo e anche per farvi vedere le potenzialità parliamo di un dispositivo assolutamente completo con tanto di android tv 10 e il suo telecomando con il quale poter impostare praticamente tutto quello che serve all'interno di un'interfaccia che appunto è quella di android e quindi permette di scaricare qualsiasi applicazione che serva tipo netflix insomma apple tv disney quelle che già conosciamo ma è un dispositivo che può essere utilizzato anche per giocare perché ha una funzione a bassa latenza automatica io qui me lo sto godendo tantissimo lo tengo anche solo acceso magari con la musica con youtube music perché la barra bower and wilkins suona molto molto bene certo non è un prodotto di un brand molto conosciuto qui in italia e il prezzo non è propriamente abbordabile ma sicuramente in linea e leggermente sotto rispetto ad alcuni altri competitor che realizzano prodotti del genere con le stesse caratteristiche i proiettori laser 4k a ragione ultracorto costano ma sono davvero eccezionali e ti danno un'esperienza di utilizzo che con la tv mi dispiace non è possibile avere direi che le informazioni che non vi ho dato le potete trovare sicuramente sul loro sito anche in questo caso vi chiedo siete interessati a una prova un po più approfondita in cui vi parlo dettagliatamente di lui fatemelo sapere qui sotto nei commenti che così magari mi procuro uno schermo su cui proiettarlo con una maggiore qualità e detto questo siamo arrivati all'ultimo pacco di oggi oh yes finalmente è arrivato il nuovo modello di power bank di Sharjik il 170 un power bank bellissimo ma voglio farvelo vedere sono entusiasta perché già ne possiedo uno tengo sempre lì sulla mia scrivania sono oggetti utilissimi ma anche molto belli da avere da possedere da guardare anche ogni giorno parliamo di un power bank di altissimo livello sia dal punto di vista del design guardate tutto trasparente e quindi è possibile vedere direttamente non solo le celle eccole qui ma anche tutta l'elettronica nonché il display è un power bank da 24.000 milliampere con uscita di picco fino a 170 watt con diverse porte di ricarica due usb c sia in ingresso che in entrata e una usb a in uscita al suo tasto per l'accensione come potete vedere perché ve lo sto facendo vedere al suo display integrato con input output livello di carica e il tempo di ricarica quando lo si mette a ricaricare e in confezione c'è anche il suo cavetto di ricarica rispetto all'altro modello diciamo che qui siamo un po sotto dal punto di vista sia della dotazione del cavetto che era molto più bello giallo ok adesso ho attaccato il mio iphone e il display mi dice sia l'erogazione in watt in tempo reale nonché il tempo di ricarica residuo che ci vorrà per ricaricare arrivare al 100% direi bello bello anche perché in confezione c'è persino una sacchettina per il trasporto anche perché comunque è un prodotto costoso e delicato e sarebbe un peccato insomma se casca si graffia eccetera un bel power bank sicuramente portatile piuttosto pesante ma parliamo di 24.000 mAh una piccola stazione di ricarica stilosa e utile con performance di ottimo livello non ricordo se vendono su amazon o sul loro shop in ogni caso troverete ovviamente il link qui sotto in descrizione vi ricordo che è sempre attivo il mio sito dove sto vendendo il wallpaper manuelagostini.it e naturalmente se ancora non lo avete fatto male e dubito potete unirvi al mio canale telegram sia quello delle offerte tech ma soprattutto quello delle offerte per la casa che si trovano gli sconti per natale e sono tanti e magari avete bisogno di trovare uno spunto sicuramente potete trovare sia lo spunto che un'ottima offerta io non posso fare altro che ringraziarvi augurarvi una ottima domenica grazie da manuel agostini e noi ci vediamo ovviamente per un prossimo video sempre qui sul mio canale youtube